Il Savona ha meritato di vincere, le mie polemiche iniziali, mi è stata fatta una domanda, quando mi ha detto come era, c'è un arbitro, ma non è stato nessun polemico, nel senso merito al Savona che aveva vinto 5 partite, era una squadra di prima e seconda divisione, due di Coppitale e tre di campionato, però fate voi, fate voi perché sennò non voglio diventare patetico, perché non voglio diventare patetico, no no no, non tu, dico tutti quanti, assolutamente, il risultato è meritato, però il calcio alle volte è un'altra cosa, ma non solo noi, non solo noi, abbiamo visto tutti, però non voglio diminuire una squadra che a mio avviso gioca a calcio, gioca bene, molto aggressivo, una squadra che ha dei valori importanti, ha dei giocatori importanti, detto questo abbiamo patito molto la loro pressione, la seconda palla, dove sapevamo che loro giocano molto sulla seconda palla, assolutamente, eravamo sempre in ritardo con Grauso, Cagliari e Valagussa, lì in mezzo ci hanno tritato e le partite spesso, è inutile che si vincono e si fermano, molte volte a centrocampo, loro lì hanno avuto il sovravento, quindi l'hanno vinta là, poi anche sicuramente la giocata dei giocatori, perché abbiamo fatto un gran gol e tutto, però la sensazione era quella che là in mezzo pativamo, pativamo molto e quindi è andata così. A noi dobbiamo perdere, ma sbagliando, osare, se non osi e perdiamo, mi incazzo.